Buongiorno, mister, maestro, o semplicemente David Lynch. It's October 22, 2021, and if he can believe it, it's a Friday once again, it's a Friday once again. It's in Naples, 66 Fahrenheit, around 19 Celsius. E questo significa che quella giornata veramente, 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 veramente mite, in questi giorni e in questo periodo, anche se non proprio, fa un po' più fresco, ma ci ritorno alla fine, tra poco. In ogni caso, adesso, oggi pensavo alla nostra serie, cioè la mia, ma tra virgolette anche la sua, serie musicale, It's a Friday once again, se tutto va bene, dovrei caricare il nono episodio, se non erro, dopo. e poi pensavo che in virtù, l'uscita di vent'anni di Mullolan Drive, sto facendo dei tutorial, il prossimo tutorial è Mister Rock, Betty Team, Betty Team, ma aggiungo meglio le cose in descrizione. e in ogni caso, a seeing just a see, from the window, oggi non abbiamo questi bellissimi occhi e il sole and sunshine, si si, it's totally cloudy, grey, grey, anzi, dark, dark, very dark, cloudy and atmosphere, and I think, da quello che ho letto dovrebbe rimanere così per qualche giorno, ovviamente le cose possono sempre cambiare, but as always, we will see, se we made this, so, from the mythical window, with the colored curtain, beautiful colored curtain, but dark, with this atmosphere, and this green roller shooter, and finally, from my mythical keyboard, Yamaha Digi X 640, IPG 625, have a great day, him, Yusuf, Douglas, always a great greetings, to them, and everyone too. A twin pizza team, it's very beautiful. This is a montage from Twin Peaks, by my version, I, as I, every Friday, I add the link in description, if you wanna, is interested, obviously, also the Laura Palmer's team, and all the music from Twin Peaks, from Twin Peaks, this movie is extraordinary, and I say, always thank him, for this, and also, he's a friend and composer, Angelo Badalamenti, have a great day.